Si può dare il consenso quando si rinnova o si ottiene la carta d'identità oppure recandosi alla ASL e effettuando ora un gesto che può salvare una vita domani. E in 150.000 hanno già detto di sì? Sono in crescita i consensi alla donazione degli organi in provincia di Bari. Secondo le statistiche del sistema informativo Trapianti, ad oggi sono stati depositati 150.372 consensi alla donazione degli organi e 19.889 iscrizioni all'Aido su un totale di 250.557 dichiarazioni complessive di volontà. L'opposizione alla donazione quindi è stata fatta da 84.296 persone, poco meno del 30%. Lo ha comunicato la SBARI in concomitanza dell'avvio del corso di formazione rivolto agli operatori della donazione al trapianto di organi e tessuti, novità normative e aspetti clinico-organizzativi. La prima si è tenuta giovedì 18 novembre all'ospedale di Venere di Bari nell'aula del polo formativo del corso di laurea di scienze infermieristiche mentre la seconda è in programma il prossimo 14 dicembre nell'ospedale San Paolo. Il corso, che si rivolge a 30 operatori sanitari per ciascuna sessione, viene definito un utile strumento per approfondire insieme ad esperti del settore e questioni squisitamente cliniche legate alla fisiopatologia e alla diagnosi della morte encefalica, ma anche per trattare implicazioni medico-legali e modalità di comunicazione, argomenti fondamentali lungo l'intero percorso.